L'idea di solidarietà a cui si ispira il volontario non si fonda sull'altruismo ingenuo ma nasce invece da valori civili e religiosi e dall'analisi della complessità sociale, dei guasti provocati da un sistema sociale disordinato e ineguale e dal degrado culturale e morale provocato dall'applicazione della legge del più forte, dalla carenza di etica collettiva. Parole di Don Luigi Di Liegro, noi questa mattina vogliamo affrontare un argomento molto interessante, lo facciamo grazie alla disponibilità e competenza della dottoressa Marta Zammuto, psicologa e coordinatrice dell'area salute della fondazione Don Luigi Di Liegro. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, innanzitutto prima di arrivare alla notizia che ha creato questo collegamento tra noi e voi, vorrei partire proprio da spiegare ai nostri amici telespettatori in che cosa consiste SOS, SWS, poi ci darà lei bene come la pronuncia, SOS, il servizio di supporto, orientamento e sostegno sociale offerto dalla fondazione Di Liegro. Il SOS, per praticità appunto lo chiamiamo con la sigla, è un servizio attivo dal 2014 della fondazione Di Liegro e si occupa proprio di orientare in un campo complesso e delicato quello della salute mentale. La fondazione, da quando ha iniziato le attività, dal 99 dopo che nel 97 era scomparso Monsignor Di Liegro, si è dedicata sempre di più a questo campo perché, come ama dire la dottoressa Di Liegro, nipote di Don Luigi, segretario generale della fondazione, la salute mentale è un campo che riguarda tutti, nessuno è escluso come appunto praticava e ci ha insegnato Don Luigi. Quindi in quest'ambito essere orientati ai servizi di salute mentale a seconda del momento specifico e dell'esigenza della persona o della famiglia diventa molto importante. Quindi dall'inizio della sua attività ci siamo accorti, la fondazione si accorta, che molte persone a causa anche dei pregiudizi negativi dello stigma che c'è riguardo alla salute mentale non chiedevano, non facevano domande, rimanevano isolati rispetto a problemi di salute mentale e inoltre essendo molti servizi che si occupano di questo campo è difficile scegliere, è difficile capire qual è la risposta migliore a seconda del momento. Quindi il SOS prevalentemente a livello telefonico è un servizio telefonico che si occupa di indicare quali servizi a seconda della collocazione geografica di chi chiama sono più utili in quel momento, quindi da attività di socializzazione a percorsi clinici se la persona non è ancora seguita da specialisti fino a laboratori riabilitativi o contatti di proprio professionisti o cliniche, privilegiando ovviamente il settore pubblico o privato convenzionato e gli enti del terzo settore che nel campo della salute mentale ultimamente sono sempre più a servizio della cittadinanza e in rete con le ASL e con i servizi pubblici. Quindi il SOS si avvare appunto di operatori e volontari formati che rispondono ai bisogni dei cittadini e trovano diciamo le risposte in una banca dati costantemente aggiornata di servizi su tutto il territorio nazionale che vengono messi a disposizione dei cittadini. Ecco, molto chiaro, molto interessante appunto quello che il servizio SOS offre a chi si rivolge a voi e la notizia che in qualche modo ci ha spinto a contattarvi è proprio questa che sono aumentati coloro che hanno meno di 30 anni e che si rivolgono al vostro servizio. Qual è la spiegazione, dottoressa Zamuto? Sì, abbiamo voluto evidenziare questo dato poiché appunto possiamo compararlo con quello degli anni precedenti dello sportello e ha avuto molta risonanza poiché è un dato che conferma insomma la situazione attuale e trova risonanza anche in altri professionisti e enti che fanno ricerca come la fondazione in questo campo. I giovani chiamano sempre di più e le famiglie che hanno figli giovani si trovano in difficoltà. Il fattore comune di questi giovani è il ritiro sociale, diciamo. Poi le problematiche in salute mentale sono varie, ma un fattore comune che possiamo trovare è l'isolamento sociale. Le spiegazioni possono essere tante. Veniamo da anni in cui i giovani fra il 2020 e il 2022, diciamo, in cui un po' più si è tornati alle abitudini precedenti, non senza, diciamo, ricordi del periodo del covid e sicuramente ha tolto, diciamo, una parte di socializzazione che per l'età evolutiva dei giovani è fondamentale e sicuramente ci sono abitudini in un mondo sempre più digitale che portano i giovani a non avere contatti concreti con le persone, ma sempre più mediati dai dispositivi. I problemi di salute mentale ci sono sempre stati e la fondazione da anni lavora con i giovani nelle scuole, nella formazione, a genitori, operatori, giovanili, quindi, diciamo, il problema c'era anche prima, però questo aumento di richieste di aiuto appunto documenta che l'età, diciamo, si abbassa e soprattutto la questione a livello scientifico problematica è che se un disturbo mentale compare, diciamo, fra i 17 e i 25 anni e si cronicizza, diciamo, avanti nel tempo, è più difficile poi, diciamo, scardinarlo o far sì che sia solo un disagio psichico temporaneo. Quindi noi lavoriamo e invitiamo, appunto, anche le istituzioni a aver presente questa situazione, poiché i servizi per i giovani e le famiglie sono sempre più importanti e solo attraverso la prevenzione e, diciamo, una consapevolezza istituzionale della cittadinanza su questa situazione possiamo attutire, diciamo, le problematiche che vengono fuori da questa situazione. Ottimo, quindi se ho ben capito, non sono solo i giovani che si rivolgono, o meglio, loro personalmente che si rivolgono al vostro servizio, magari anche i familiari, coloro i quali sono vicini a questi ragazzi. E poi quello che volevo chiederle, possiamo tracciare un profilo di chi si rivolge al vostro servizio? Quindi sono aumentati i ragazzi che hanno meno di 30 anni, sono più ragazzi o ragazze, vengono e vi chiamano più dal sud Italia, nord Italia. Diamo qualche indicazione in più in merito. Certo, in realtà riguardo appunto a chi chiama, la popolazione è variegata. Riguardo al genere, uomini o donne, non ci sono particolari differenze. Diciamo, ci sono stati anni in cui erano più le donne a rivolgersi al servizio, però in realtà adesso siamo a un 50% fra donne e uomini. Dei giovani, devo dire, sono un po' più ragazzi o famiglie che chiedono aiuto per i ragazzi, però diciamo non è un dato statisticamente rappresentabile, quindi diciamo che è un po' un orientamento che ci fa attenzionare, no? Questo aspetto. Riguardo all'età, appunto, più o meno sono equidistribuiti, anche se c'è stato un aumento dei giovani. E il 70% circa delle nostre richieste arriva dal Lazio, il resto dal resto dell'Italia. In conclusione, dottoressa Zammuto, oltre a questo servizio, che cosa offre la vostra fondazione? Riguardo alla salute mentale, la Fondazione di Liegro offre varie offerte formative annuali per familiari, volontari e operatori nell'ambito della salute mentale e fa ricerca in questo campo. Inoltre, una delle attività principali è quella dei laboratori di arte, terapia e socializzazione per l'inclusione sociale e rafforzare l'empowerment e la consapevolezza di sé delle persone che hanno problemi di salute mentale. Abbiamo musica, teatro, arte con l'Accademia di Belle Arti, scrittura creativa, fotografia. Tutti i laboratori condotti da professionisti del settore, sono eseguiti da volontari, per cui l'azione dei laboratori è duplice. C'è sia un'azione sui partecipanti che un'azione sulla cittadinanza che decide di avvicinarsi a chi ha queste problematiche e lottare contro lo stigma che spesso attraversiamo. Ci sono inoltre gruppi di autoaiuto per i familiari, gruppi di autoaiuto per il lutto, gruppi multifamiliari che aiutano contemporaneamente sia il paziente che i familiari e attività di volontariato e arte, terapia e socializzazione nei servizi. Un progetto che va avanti da molti anni, vede i volontari della fondazione inseriti anche nei servizi psichiatrici ospedalieri. Abbiamo una lunga collaborazione con l'ASL Roma 1 e per quanto riguarda le attività anche nelle comunità terapeutiche e nei centri di salute mentale con l'ASL Roma 2 ci sono molti volontari che vanno proprio per combattere anche un po' l'isolamento, la situazione delicata in cui le persone si trovano a vivere durante un percorso riabilitativo. È bello sapere che ci sono delle realtà come la fondazione Don Luigi Di Liegro che si occupano di questo. Dottoressa Zamuto, le strappo una promessa, magari risentirci nei prossimi mesi per ritornare sull'argomento e magari parlare anche di altre sfaccettature della fondazione Di Liegro. Intanto la ringrazio per essere stata con noi, grazie alla dottoressa Marta Zamuto, psicologa e coordinatrice dell'area salute della fondazione Di Liegro per essere stata con noi questa mattina. Grazie e buon lavoro a tutti. Arrivederci, grazie. Ci fermiamo di nuovo lì nella regia. Grazie. Grazie. Grazie.